I Timberwolves ancora orfani di Jimmy Butler a riposo per precauzione crollano a Portland battuti dai padroni di casa. È una gara letteralmente senza storia con i Trailblazers di Coach Stotz che tengono in mano le redini del gioco per l'intera partita, arrivando addirittura al più 28 nel corso del terzo quarto. A metterci del suo anche la difesa di Minnesota che concede troppo agli avversari. E nonostante i 23 punti di Carl Anthony Towns e i 17 di Andrew Wiggins non riesce a fare la differenza. Finisce 111-81 con Portland che trova così il terzo successo nelle ultime quattro gare di NBA disputate e mantiene saldamente la terza posizione in Western Conference.